Serie D, giovanili e team femminile. Un'altra grande stagione di basket è targata a Cusassari. È un progetto lungimirante che parte dalle basi per costruire il suo presente. Il responsabile tecnico della sezione basket sarà il confermatissimo coach Gianni Sanna, che guiderà in oltre i group under 15 e under 13 esordienti. In ambito settore giovanile si riprenderà finalmente a lavorare anche sulla squadra femminile, con un roster che guidato dall'esperto Giampaolo Doro, assistente Massimiliano Campus, disputerà il campionato under 16 in rosa. A prendersi cura dei basketari nel Cusassari e della loro condizione fisica sarà Alessandro Godisciagua, lo chiamiamo noi Meloni. Da registrare inoltre l'accordo biennale con il CMB Porto Torres del presidente allenatore Massimiliano Del Rio, mentre per il settimo anno consecutivo il settore minibasket si avverrà della preziosa collaborazione di Angedras, Società Satellite e Cus, grazie alla competente guida, all'istruttrice e malirita pintore. E questa è la dimensione da cui provengono la gran parte dei giovani atleti, i prossimi protagonisti del massimo campionato, figli di un ingimilante progetto che ha in un settore giovanile florido e ben organizzato le solide basi per svilupparsi e competere nei campionati assoluti con le migliori realtà isolare.